Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come funziona il mio nuovo ebook nel dettaglio, quindi andremo a vederlo direttamente sulla schermata dell'iPad oppure di un PC. Infatti si tratta di un ebook totalmente, secondo me, nuovo, innovativo, avendo in un'unica pagina tutto quello che vi serve per poter studiare e suonarci sopra. Ma andiamo a vederlo nel dettaglio. Vi faccio vedere come funziona l'iBook caricato su un iPad, in iBook. Voi aprite iBook, aprite il libro e lo vedete a due pagine affiancate, questa è la prefazione. Qua faccio, spiego come funziona la pagina e poi qua abbiamo le varie pagine, vedete, tutte simili, in modo da potervi ritrovare. Allora, abbiamo ad esempio in alto a sinistra il titolo della canzone. Qua abbiamo la partitura con le tab, gli accordi, la velocità metronomica. In basso a sinistra c'è un video in cui io spiego come suonare questo pezzo. Quindi per chi non sa leggere la musica, spiego le note, dove andarle a prendere, spiego il ritmo. A volte faccio partire anche le basi, ci suono sopra. Comunque, un mini video... Tasto 5, corda di Mi. Potete anche allargarlo, chiaramente. Poi andiamo su un Si. Tasto 7, sempre corda di Mi. Posso prenderlo sia con l'anulare. Poi, in alto a destra abbiamo l'accompagnamento che dura diversi minuti, con, per i primi giri, il basso. Oltre, chiaramente, batteria e chitarra acustica. Nei primi giri abbiamo il basso che poi sparisce e vi permette di poter studiare, di poterci suonare sopra. Vi faccio sentire. Dopo, da un 4. In basso a destra avete una griglia con la batteria per come è scritta visivamente. L'ho fatto con DM1, che è un programma per scrivere batteria, drum machine. E, particolarmente importante, adesso faccio partire, la prima riga. Tiene la cassa. Quasi sempre corrisponde a quello che voi dovete suonare in basso. Quindi può essere molto utile, visivamente, avere proprio dove cadono questi cordi. E poi, chiaramente, potete anche suonarci sopra. Quindi è utile anche in fase di studio. Così via. Ogni pagina sarà fatta in questa maniera. Ci sono 20 canzoni. Vi faccio vedere come funziona anche su PC, se decidete di scaricare l'iBook sul vostro computer. Il formato è un EPUB, quindi dovrebbe funzionare qua. Questo è un Mac, quindi io lo apro con iBooks. Però dovrebbe funzionare anche con il Kindle. Voi aprite da l'iBooks, in questo caso. Ve lo trovate così, con due pagine affiancate. Le scorrete. C'è una presentazione. Qua spiego come funzionano le pagine. E poi partono le varie pagine. Quindi, sullo schermo lo vedete in maniera molto comoda, almeno. Io lo trovo molto comodo. Vedete le varie canzoni. Potete far partire gli audio qua sopra, in alto a destra. Ci sono gli audio a diverse velocità, con il basso che poi sparisce. E vi lascia per qualche minuto suonare, esercitarvi. A velocità normale, velocità ridotta. Grazie per aver visto il video. Adesso potete andare sul mio sito. Vi lascerò il link. Vi farò vedere come. Potete anche scaricarvi la versione di prova, dove ci sono soltanto due canzoni. Così potete vedere se funziona con il vostro dispositivo. E soprattutto se vi piace. Grazie ancora. Dateci un'occhiata. Lasciate un like. Se volete condividere la pagina vi sarò molto grato. Ciao a tutti. Grazie Carlo. Buona musica.